Blitz nella notte dagli uomini della squadra mobile di Padova, coadiuvati dai colleghi della mobile di Venezia in un'abitazione di Chirignago nel veneziano in via Oriago. Dopo mesi di latitanza, 15 agenti hanno fatto irruzione nella casa dove Ercole Salvan si rifugiava. 54enne ex componente della Mala del Brenta era evaso dalla propria abitazione di Sant'Angelo di Piove in provincia di Padova dove stava scontando gli arresti domiciliari, un'evasione che risale al 20 dicembre scorso dopo un arresto in flagranza per tentata rapina avvenuto il 19 ottobre. Oltre all'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di evasione, il Tribunale di Padova aveva nel frattempo emesso anche un'ordinanza in carcere per sette anni e tre mesi di detenzione perché è responsabile di una serie di rapine a furgoni portavalori. Sono stati pochi minuti che ci sono serviti per poter abbattere tutti gli ostacoli, parlo soprattutto di porte nel caso di specie 2 e raggiungere esattamente la stanza dove il Salvan si trovava nel momento in cui l'abbiamo ammanettato. Negli operativi siamo stati in 15, è stato fatto ovviamente un esame approfondito per cercare di abbassare al minimo la soglia di rischio e detto questo la rapidità di intervento si è conclusa in poco più di, l'operazione in poco più di 6 minuti. Le manette sono scattate per evasione perché da tempo ricercato in manette per favoreggiamento anche Ivano Galbusera, 65enne originario di Como, locatario dell'immobile dove aveva trovato rifugio Salvan.